Buongiorno, sempre con il mio cappuccino di Starbucks, oggi è lunedì 2 gennaio e è il nostro ultimo giorno a New York, andremo a fare un po' di visita della città e poi shopping ma il pomeriggio andremo a vedere una partita dell'NBA Ok, partiamo! Questa mattina abbiamo l'appuntamento alle 9 per andare a vedere il One World Observatory cioè il grattacielo al Memorial e è una delle, non so se è proprio la vetta più alta di New York quindi andiamo a vedere, 102esimo piano Seconda tappa della nostra giornata è Roosevelt Island una piccola isola est di Manhattan che si raggiunge con la funivia, cioè la tramway che parte appunto da Manhattan tra la seconda avenue e la 59esima, 60esima strada Il tragitto di questa funivia viene in parte oscurato dal Queensborough Bridge e il costo del biglietto è quello di una metropolitana, quindi 2 dollari e 75, che non è poco La funivia è stata inaugurata nel 1976 e viaggia a una velocità di 28 km orari quindi è possibile fare tutti i video e le foto del caso Il Queensborough Bridge è famoso perché vi hanno girato la scena dell'Uomo Ragno quando lui deve decidere se salvare la ragazza o le persone che sono sulla funivia Quest'isola un tempo si chiamava Black Wheels Island o Welfare Island quando ospitava pigroni, ospedali e manicomi Come sempre, abbiamo visto in questi giorni, Manhattan è riuscita a far rinascere dalle ceneri un luogo di totale degrado Il nome Roosevelt Island è stato dato in onore del famoso presidente americano a cui è intitolato il parco Franklin Roosevelt for Freedom Park sulla punta sud dell'isola, inaugurato nel 2012 Oggi ovviamente non ci sono più ospedali, non ci sono penitenziari e l'isola è una zona residenziale molto tranquilla con vista sullo skyline di New York, quindi anche molto bella L'Octagon è la residenza molto costosa, eco-chic e ricavata nell'edificio che nel 1830 ospitava il manicomio Andremo a vedere anche l'aspetto spettrale delle rovine del Small Packs Hospital Subito sotto si trova il parco dedicato a Franklin Roosevelt in memoria del discorso del presidente Roosevelt tenuto al congresso degli Stati Uniti nel 1941 sulle quattro libertà di parola religiosa libertà dal bisogno e libertà dalla paura da qui si vuole molto bene il palazzo delle Nazioni Unite, quello di vetro Il Lighthouse Park è un antico faro in pietra del 1800 l'isola è abitata da circa 16.000 persone ha un basamento in granito bianco circondato da filo vertinati di tigli costruito dal 2010 inaugurato nel 2012 l'ultimo lavoro del famoso architetto Khan progettato nel 1973 e realizzato dopo la sua morte per infarto nel bagno della Pennsylvania Station Small Packs Hospital come abbiamo visto era un ospedale per il bagiolo da 100 letti inaugurato nel 1856 a sud di Roosevelt, Thailand in una posizione isolata per mettere in quarantena appunto i pazienti che erano affetti da avaiolo fino al 1875 accolse gli ammalati e fu anche un centro di formazione per infermieri chiuse negli anni 50 e i suoi edifici caddero in rovina Chapel of the Good Shepherd è la chiesa episcopale del 1888 al centro dell'isola costruita in pietre e mattoni ha un aspetto austero e armonioso in stile gotico vittoriano è stata restaurata nel 2003 The Octagon costruito nel 1834 è uno storico edificio ottagonale connesso al complesso di condominio situato all'888 Main Street sull'isola su cinque piani fu un ospedale tutti questi edifici qua compreso il faro e l'Hart House Park che è un faro in pietra costruito nel 1872 dai detenuti del penitenziario dell'isola per creare una zona di luce utile alle navi che attraversavano l'Est River insidioso per la presenza di voluminosi massi in granito funzionò fino agli anni 40 e tutti questi sono luoghi storici dal 1972 nel corso del XIX secolo è stata sede di ospedale manicomi e istituti correttivi tra il 1980 e il 2000 l'isola ha conosciuto uno sviluppo dal punto di vista residenziale nel corso dei suoi anni ha subito l'evoluzione di vari nomi da Minna Honock nome dato dai primi indigeni fino a Manning's Island in onore del capitano Manning a Blackwell's Island e all'attuale Roosevelt Island è soprannominata The Little Apple cioè la piccola Mira dal 1981 ha un suo giornale indipendente che esce ogni due settimane The Main Street Wire sull'isola vivono Coffie Annan Sarah Jessica Parker e Michelle Bachelet è larga nel punto massimo 250 metri quindi veramente piccola sul lato orientale si ammira il Queens con edifici bassi alternate a grattacieli stabilimenti industriali e il Queensbridge Park South Point Park è un Central Park in miniatura in uno dei punti più stretti dell'isola la funivia è diventata operativa nel 1976 e fino al 2006 è stata l'unica funivia aerea degli Stati Uniti anno in cui fu inaugurata quella di Portland le cabine sono state sostituite nel 2010 quindi un po' di tempo fa e può trasportare fino a 125 persone le corse sono ogni 7-15 minuti quindi abbastanza frequenti e anche oggi andiamo a visitare Manhattan buona giornata l'ultimo giorno a New York l'ultimo giorno di freddo Siamo al Memorial e stiamo andando a vedere il One World Observatory Rosso e noi attraversiamo 47 sono i secondi che impiega l'ascensore per arrivare sulla vetta più alta di New York 541 metri cioè 1776 piedi cioè l'anno dell'indipendenza degli Stati Uniti una vista a 360 gradi su tutta New York la statua della libertà inaugurata nel 1886 che raffigura la dea ragione che indossa una lunga toga e sorregge fieramente nella mano destra una fiaccola segno del fuoco eterno della libertà mentre nell'altra tiene una tavola recante la data della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America cioè il 4 luglio 1776 con il bel tempo non vedete solo Manhattan ma proprio tutta New York sono pronta per vivere a New York non ho più paura dell'agenza l'alternat poi Grazie a tutti. Grazie a tutti per visitare One World Observatory. Non eravamo mai stati a Roosevelt Island e devo dire che è bellissima. Stiamo passeggiando a Roosevelt Island e di qua abbiamo lo skyline di Manhattan. Abbiamo trovato queste panchine, tipo proprio chaise longue. Noi siamo totalmente sdraiati e questa è la nostra visuale, ragazzi. Wow. Le panchine sono così. Chrysler. Palazzo delle Nazioni Unite. Inaugurato nel 1856 come ospedale per il Baiolo, fino al 1875 accolse gli ammalati e fu anche un centro di formazione per infermieri. Chiuso negli anni 50, i suoi edifici cadero in rovina. Questo è quello che resta dell'ospedale dedicato al Baiolo. Qui venivano isolati, infatti siamo nella punta di Roosevelt Island, i malati di Baiolo, in modo tale che non potessero contagiare gli altri. Entriamo nel Franklin Roosevelt for Freedom Park, in memoria del discorso del Presidente Roosevelt tenuto al Congresso degli Stati Uniti nel 1941 sulle quattro libertà, di parola, religiosa, dal bisogno e dalla paura. Qui abbiamo Manhattan con il Palazzo delle Nazioni Unite, qui termina Roosevelt Island, il Queens e la scritta Pepsi Cola. Qui abbiamo Hunstall. Thailand Runway è stata l'unica funivia aerea degli Stati Uniti fino al 2006, anno in cui fu inaugurata quella di Portland. Sembra quasi di toccare il Queensborough Bridge. E ora direzione Madison Square Garden per l'NBA. Una peripezia per entrare al Madison Square Garden. Di cosa ne abbiamo fatti? In pratica non mi hanno fatto entrare la DJ Pocket, ma il cellulare sì. Cosa che trovo veramente assurda è che non si possono portare all'interno delle videocamere, neanche quelle piccoline come una DJ Pocket, ma il cellulare che è molto più potente sì. Grazie a tutti. Grazie. 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 Trono, tronisti, Maria De Filippi. Grazie. Grazie.